Sono bai fra Ludwig Hoffmann Rommelstein del Gran Priorato di Lombardia-Venezia. Qui a rappresentare il Gran Priorato, ma soprattutto l'ordine dei cavalieri di Malta. Ecco una celebrazione, un pellegrinaggio qui a Crusone. Si ritorna nella cittadina Baradella per pregare, per stringersi attorno anche ai signori malati, oltre ai cavalieri e alle dame. Sì, siamo qui per pregare, per fare insieme con i nostri bisognosi malati e handicapati, per essere quasi una famiglia con tutti i nostri pellegrini malati. Ecco la realtà della diocesi di Bergamo, una realtà comunque importante. Questa è certamente un'importanza perché è un carisma del nostro ordine, particolarmente per aiutare i nostri ammalati e poi anche per aumentare e rinforzare la fede. Rinforzare la fede Pacchioni, un ritorno qui a Crusone, nel segno anche dei malati. Lo dicevamo prima, un'attenzione particolare a loro. Uno dei principi dell'ordine, oltre all'attuizio fede, è lo Psechium Pauperum. Sono i grandi principi sul quale l'ordine si va. O Psechium Pauperum vuol dire assistenza continua e affettuosa nei confronti dei signori malati. O Psechium Pauperum vuol dire assistenza continua e affettuosa nei confronti dei signori malati. O Psechium Pauperum vuol dire assistenza continua e affettuosa nei confronti dei signori malati. O Psechium Pauperum vuol dire assistenza continua e affettuosa nei confronti dei signori malati.